Siamo Stefano Capus, Presidente dell'Unione Culturale della Ghieti di Sata. Lo Comitato di Solidarietà a favore della Catalunya ha organizzato una gran manifestazione a Bras del Municipio. Siamo Stefano Capus e se vi potete dire qualcosa di questa gran manifestazione a favore dei nostri cosini o germani e anche qualcosa di una situazione politica attuale. Buongiorno. Perchè l'Homeo Cultural partecipa a queste manifestazioni? Perchè ha donato l'adesione? Perchè l'Homeo Cultural è una associazione culturale di un unione che è nata a Catalunya a mesi di 50 anni fa, durante il periodo franchista, grazie all'opera di cui ha associato la lingua e la cultura catalana. E soprattutto la ricostituzione della Generalità di Catalunya di Enchiavui rappresenta un punto di riferimento importantissimo per la revitalizzazione e la difesa della lingua della cultura catalana. Usato dalla ghia, esistiamo già di quasi 25 anni, abbiamo dato avanti anche il tipo di lavoro a favore della nostra lingua algerese e della nostra cultura. Naturalmente siamo collegati insieme alla Gialmanazza, con l'associazione nazionale di Catalunya che ha avuto 73 mili soci. Perchè la lingua? Perchè la lingua non è un fatto giurale, la lingua fa parte della società, quindi l'uso sociale della lingua è un fatto politico in generale. Ecco perchè noi avevamo diritti, soprattutto quando sono stati negati al popolo catalano, un diritto fondamentale, un diritto di andare a votare a favore della nazionale, a favore dell'interesse delio, dell'autodeterminazione di un popolo. E ciò pensiamo che sia una cosa fondamentale per la democrazia, sia per i paesi catalansi, ma per qualsiasi popolo che è al mondo. Avevamo diritti anche perchè era stato il Presidente dell'Unione Culturale, Giordi Cusciano. E ciò è un fatto gravissimo, non perchè ha fatto il terrorismo, perchè ha rubato, assolutamente solo perchè ha convirato, non so, ma tutti gli italiani hanno votato. E ciò è un fatto gravissimo, soprattutto perchè vi fanno una nazione che non è accostata dalla Turchia o una dittatura. E' una democrazia, è una democrazia europea, fa parte della comunità europea, perciò mai, nemmeno tutti gli italiani, ma soprattutto gli italiani hanno immaginato una reazione repressiva come quella che è stata attuale. Tutti gli uomini l'hanno visto, forse gli italiani l'hanno visto, ma quella crudeltà. E' una repressione delle parti della Stata, perchè è stato proprio il governo spagnolo, ha una ordine precisi. E la violenza, peraltro, non la vuole in vera, non la vuole in vera, né in Cataluña, né nel confronto di qualsiasi popolo. Perciò, abbiamo aderito già nel primo referendum a questa iniziativa, a voi siamo ancora disponibili aiutati. di Sardegna, di Sardegna, di Sardegna, di Sardegna, di Sardegna, di Boulado, di Fructotorra, di Sassar, e erano anche gli italiani. E li vedete anche che erano i movimenti con Sardegna? Sì, erano Sardegna, erano altre sardegna, erano rappresentanti storici dell'indipendentismo Sardegna, e erano anche associazioni, altre associazioni, non erano solo un'unione culturale, associazioni culturali, di Sardegna e di Sardegna. Perciò abbiamo fatto un'iniziativa pacifica, democratica, di Tiradel, e soprattutto ha partecipato un sindico di un comune català, che è Andreu Bosco, un amico delle guerre che ha lavorato all'allie, e lui ha dato la testimonianza diretta degli occhi sussati e che sta sussati in Cataluña in quei giorni. Don Kars, posso dire la situazione come è attuale la politica del català? Ma tutti i segni di intervigionarsi, mantenendo la televisione, gli effetti gravissimi che dovevano spagnolo a stati sedenti dei commissariati della Generalità di Cataluña. Praticamente si va in volta che c'è decisione. La Generalità non esiste mai dei effetti, perché una volta che aveva commissariare, che aveva trattato il Presidente, tutti i ministri, non si era connessi in tanti del Parlamento catalano, e non si era connessi a zero la Generalità di Cataluña. Ci sono effetti gravissimi che solo Francisco Franco ha fatto in sé nel secolo passato. e ciò naturalmente non può passare. Caralho, caralho dei musati, ma anche chi non è a favore dell'indipendenza, perché è un problema dei credi che non è che siamo fatti una manifestazione a favore dell'indipendenza. Caralho potete prendere l'idea che te, no? Allora non è questo tema. Però siamo fatti una manifestazione, una presa di posizione a favore della mobilità, a favore della democrazia, contro l'oppressione, contro la dittatura. e praticamente sento un'antandrea dei 40 anni quanti più catalanze, quando erano vietati di parlare in catalan e in catalan, arrivano da chi, per connessi da chi, ma per poi parlare tranquillamente agli baltati la lingua catalana. Grazie Silvia, grazie. Usanteremo un altro momento. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.